Il recupero della vecchia caserma di Aquilinia, fare un centro per disabili, un centro per anziani, rimettere a posto il Teatro Verdi, rimettere a posto e infrastrutturare tutto il piazzale Alto Adriatico con i collegamenti per tutte le manifestazioni che vengono fatte. Sono solo alcune delle opere che Muggia avrebbe potuto vedere realizzate grazie alle risorse della concertazione, secondo il candidato sindaco del centrodestra Paolo Polidori, che oggi ha illustrato le idee della coalizione per sfruttare in futuro questo importante strumento. A dargli sostegno sia il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, già primo cittadino di Muggia, sia l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha criticato l'attuale amministrazione muggesana per non aver mai chiesto alla regione i fondi disponibili, circa un milione di euro. Una buona amministrazione deve stare attento ovviamente a quelle che sono le scadenze, parliamo di circa un milione di euro che potevano arrivare a Muggia e che oggi il nostro intento è quello di vederla in propositivo, cioè quello che si sarebbe potuto fare o meglio quello che si potrà fare con i prossimi soldi e la concertazione per quanto riguarda le opere a Muggia. Ogni movimento che compone la coalizione a sostegno di Polidori ha allostrato quindi le proprie idee da mettere in campo in futuro con la concertazione. Il fatto di creare una zona in Molo Balotta per quanto riguarda l'area attrezzata camper, io dico il rifacimento dello stadio Zaccaria, che ha ancora bisogno di tantissimi soldi, sono stati stanziati i soldi ma non sono ancora stati spesi.